Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri d'Italia, grazie per partecipare a Doha Forum. Il 2020 è veramente l'anno della pandemia del Covid-19, è un nemico che ha preso tutto il mondo di sorpresa, è subtolo e ancora non si sa dov'è la fine di questa pandemia. L'Italia è certamente uno dei paesi che ha pagato il più alto prezzo fino adesso. Com'è la situazione oggi? La situazione in Italia è sotto controllo, abbiamo stabilito delle regole specifiche per tre tipi di regione a secondo del tipo di infezione, del livello di infezione e questo ha permesso di gestire la curva epidemiologica, la curva ha rallentato, ci attestiamo intorno ai 14.000 nuovi casi al giorno, anche il numero di morti lentamente sta rallentando, ma c'è un problema europeo più grande, la seconda ondata ha travolto tutta l'Europa, questa volta l'Europa non si è fatta cogliere di sorpresa, abbiamo coordinato le nostre azioni, c'è preoccupazione per la notizia delle ultime ore di questa nuova forma di virus, una mutazione del virus in Inghilterra, nel Regno Unito, ieri abbiamo chiuso tutti i voli con il Regno Unito, stiamo chiedendo in queste ore una riunione straordinaria dei ministri della salute europea per coordinare l'azione e capire se il vaccino ha effetto anche su questa forma mutata del virus, però l'Italia sta reagendo con tutte le sue forze, è stato il primo paese ad entrare in questa pandemia, ma adesso non è il paese che ha il numero di infezioni più alto, quindi eravamo in testa al gruppo, per una volta è bello non stare in testa al gruppo in un momento così drammatico. E quando dice che deve coordinare a livello europeo, che cosa di più si può fare adesso? Beh, sicuramente evitare misure differenti in paesi differenti, è inutile che ogni paese chiude per sé al Regno Unito, ragioniamo con il Regno Unito come gestire la diffusione di questo virus, di questa nuova forma di virus e anche all'interno dell'Unione Europea c'è stato il dibattito sugli impianti sciistici ad esempio, che erano pericolo di assembramento durante il Natale, io credo che dobbiamo rendere sempre più omogenee le misure in ogni paese in modo tale da poterlo combattere con più forza, però come diceva lei è un nemico subdolo, è un nemico che ancora non abbiamo sconfitto, il 2021 deve essere l'anno delle vaccinazioni della ripresa. Parlando di vaccinazione, quali sono le prospettive in Italia per una distribuzione rapida per tutta la popolazione generale? In Europa il 27 dicembre, quindi anche in Italia, tra pochi giorni ci sarà il Vaccine Day in cui inizieremo le vaccinazioni, noi partiremo da personale sanitario e anziani e ci vorranno 6-7 mesi per completare il programma di vaccinazione e quindi speriamo di arrivare all'estate con una parte di popolazione importante, maggioritaria che abbia già ricevuto il vaccino. Ciò per cui ci stiamo impegnando come Italia è raggiungere tutti i paesi del mondo col vaccino, dobbiamo farlo con le Nazioni Unite perché non avrà senso che 60 milioni di italiani si vaccinano ma poi nei paesi del Nord Africa non è ancora arrivato o nei paesi africani non è ancora arrivato e nel flusso di persone che ci scambiamo inevitabilmente, ricreamo la terza ondata e questo è il vero grande rischio, quindi solidarietà internazionale e collaborazione. Ok, parliamo del G20, l'Italia ha appena assunto la presidenza del G20, quali sono le priorità di questo mandato? I tre temi che abbiamo messo al centro sono People, Planet e Prosperity e abbiamo di fronte il G20 come lo avevamo dopo la crisi del 2007-2008, quella dei Mutui Supreme che aveva costruito poi la grande crisi e lì il G20 fu l'unico foro internazionale in cui i grandi della terra riuscirono un minimo a costruire un piano comune per la ripresa economica. Il G20 avrà al centro sicuramente i temi sanitari ma anche i temi legati al trade, alla riforma del WTO. Io stesso come Ministro degli Esteri e del Commercio ho chiesto che si facessero due meeting separati, quello degli esteri a Matera e quello del trade a Sorrento perché dobbiamo lavorare per riuscire a sbloccare il WTO che in questo momento è una struttura da riformare se vuole correre al passo con le esigenze della ripresa post pandemica. E nell'organizzare tutto questo la risposta dei altri paesi alle sue iniziative fino adesso? Stiamo negoziando in questo momento tutte le risposte vanno nella direzione di provare ad usare il G20 come reazione alla crisi economica derivante dalla pandemia. Abbiamo buoni segnali da ogni parte e allo stesso tempo il grande tema sarà l'innovazione tecnologica. Noi abbiamo sicuramente un 2021 in cui verificheremo che la crisi pandemica ha accelerato tutti i processi tecnologici. Adesso però dobbiamo sempre fare in modo che qualsiasi tipo di tecnologia possa essere a servizio di tutti i popoli soprattutto se riguarda la salute. Abbiamo gli ospedali congestionati in tutta Europa perché non abbiamo mai investito in telemedicina. La telemedicina che può permettere di curare a casa o in prossimità della casa del paziente. Dobbiamo fare molto su questo e i fondi di Next Generation EU, The Recovery Fund, sono la grande opportunità per colmare il gap digitale e infrastrutturale di una serie di paesi tra cui l'Italia. E questo suo viaggio qua in Qatar, l'Italia ha firmato un memorandum di partenariato tra i due paesi. Che cosa significa? Significa che cominceremo a coordinarci in maniera sistematica. I nostri ministeri avranno delle interlocuzioni periodiche sugli obiettivi che ci siamo dati. Anche qui, essere qui a Doha per me è un grande onore, un grande piacere con il ministro degli esteri. Ieri sera abbiamo approfondito tanti temi, abbiamo affrontato questioni regionali, questioni multilaterali, ma ciò che più di tutto è interessante è che un paese che potrebbe non avere la preoccupazione delle risorse energetiche sta investendo massicce quantità di denaro in energie rinnovabili. E le nostre aziende italiane, da Snam a Meritecnimonte e tante altre che sono qui con me oggi, vogliono partecipare a questa grande stagione della Vision 2030 che si è dato al Qatar, che sta sviluppando e che vuole sviluppare nei prossimi dieci anni. Qatar è un grande esempio di un paese che sta guardando al futuro alle rinnovabili pur potendo non avere la preoccupazione delle rinnovabili, cosa che noi in Europa dobbiamo avere perché non abbiamo le risorse energetiche naturali come il Qatar. E a parte nell'energia che altre relazioni si possono avere tra i due paesi? Il grande Mediterraneo allargato vede i nostri paesi, il Qatar e l'Italia, se vogliamo anche un po' agli estremi da un punto di vista geografico, ma uniti insieme nella volontà di mediare tra i tanti attori cruciali che ci sono in questo Mediterraneo allargato per far sì che quest'area, questa grande regione del mondo invece di essere una regione di crisi sia una regione di prosperità. Mai come in questo momento, il Mediterraneo è attraversato da tante tensioni e mai come in questo momento il Qatar può essere uno degli attori che ci può permettere di mediare tra soggetti, tra paesi che hanno delle posture che creano dei problemi. Io penso e guardo all'Unione Europea, l'Unione Europea in questo momento ha bisogno dei paesi del Golfo, l'Unione Europea in questo momento ha bisogno degli altri partner del Mediterraneo, perché molto spesso ha bisogno anche di leggere i codici di questi paesi, di leggere le richieste di questi paesi, ha bisogno di tanti stati amici per riuscire ad esempio, ad arrivare alla pace in Libia, a riuscire a abbassare la tensione nel Mediterraneo orientale, riuscire a costruire un percorso per la ripresa del Libano che in questo momento preoccupa per la sua situazione economica, ma anche il processo di pace in Medio Oriente tra Israele e Palestina. I paesi del Golfo sono un punto di riferimento per noi, proprio per questo. E devo dire che il Qatar si è ritagliato il ruolo di mediatore, guardiamo ai colloqui di Doha per quanto riguarda l'Afghanistan, sono stati fondamentali, quindi Doha è stata protagonista negli ultimi anni del dialogo e questo non può che renderlo un grande amico dell'Italia. Rimanendo sul Mediterraneo allargato, la situazione in Libia rimane instabile e l'Italia è un paese che ha investito molto politicamente in Libia e sicuramente è una situazione che ha sempre preoccupato Roma. Come vede le cose adesso? Ci sono stati i talks a Tunisi in questi giorni, abbiamo visto circa un mese fa, abbiamo visto dei colloqui che hanno portato a fissare una data delle elezioni alla fine del 2021, tra un anno esatto. Allora se in questo anno noi riusciremo tutti i paesi della comunità internazionale a favorire questo processo di transizione, anche continuando a sostenere Serraj come presidente di transizione fino alle elezioni, finalmente potremo far esprimere il popolo libico e quindi costruire finalmente delle istituzioni unitarie. Voi sapete che abbiamo due governi, due parlamenti, si è costruita una divisione molto forte tra Est e Ovest. I colloqui fanno ben sperare, però anche qui abbiamo bisogno che tutti gli influencer abbiano la capacità di riportare al processo politico tutte le parti in gioco, perché non sono solo due, magari fossero solo due, sono tante e in Libia noi abbiamo un interesse, quello di buon vicinato, la geografia non cambierà mai, la Libia sarà sempre a poche centinaia di chilometri dalla Sicilia e ci sono più ore di aereo tra Roma e tante capitali europee che tra Roma e Tripoli, quindi per noi la Libia rappresenta un partner imprescindibile e insieme a tanti altri come il Qatar, ma anche come gli Emirati, dobbiamo costruire il futuro di questa Libia. Lei ha detto che le elezioni sono tra 12 mesi, ma in un anno molto può succedere, specialmente in un paese così volatile. Quali secondo lei sono le priorità che uno deve focus sopra per essere sicuro che questa data sia rispettata? Un grande processo di ricostruzione della Libia, come comunità internazionale, ma anche come Unione Europea, dobbiamo cominciare a stanziare fondi per la ricostruzione della Libia, perché dare un orizzonte per la ricostruzione permetterà al nuovo governo, al nuovo Parlamento che sarà eletto, al nuovo Consiglio Presidenziale, al nuovo Primo Ministro, di poter avere degli strumenti tra le mani per dare un futuro alla propria popolazione. È molto importante costruire l'orizzonte. E se possiamo dirci una cosa, io l'ho sempre detto, l'Occidente ha deciso in maniera scellerata di bombardare la Libia anni fa. E adesso l'Occidente ha un debito col popolo libico e deve fare la sua parte nella ricostruzione di quel paese. L'altra crisi che esiste da decadi è il conflitto israele-palestinese. Adesso abbiamo visto questi accordi di Abramo, qualche paese arabo ha firmato la normalizzazione con Israele e secondo lei questo può portare alla soluzione al problema palestinese più velocemente? È sicuramente un game changer, perché nessuno si aspettava una cosa del genere, invece un accordo tra Israele e diversi paesi arabi, rappresenta sicuramente un cambio di passo. Però non dobbiamo dimenticare che l'obiettivo è portare al tavolo le due parti e con uno spirito pragmatico arrivare ad un accordo. E questo non avviene con gli accordi di Abramo, ma avviene se dalla parte palestinese e dalla parte israeliana ci sarà la volontà di risedersi al tavolo e trovare una soluzione. Molto potrà fare anche l'amministrazione Biden, la nuova amministrazione degli Stati Uniti che sta per insediarsi e contiamo sempre sui nostri alleati statunitensi per costruire un clima che porti al dialogo e quindi ad un accordo proficuo per entrambe le parti. E che cosa può fare l'Europa? L'Europa in questo momento ha un grande, grande ruolo che può costruire intorno a sé, che è quello di promuovere le iniziative diplomatiche che portano al dialogo. Perché l'Europa è un po' il pensatoio del mondo, da un punto di vista delle varie forze est-ovest può rappresentare il momento in cui avviene la riflessione e si sintetizza il dialogo. E noi come Consiglio europeo più volte abbiamo portato avanti iniziative che promuovessero il dialogo tra le due parti. È importante non viverla patteggiando per una parte o per l'altra perché lì i due popoli hanno bisogno di pace e di serenità e su questo l'Europa può promuovere sia in seno alle Nazioni Unite sia diversamente come Unione Europea il dialogo tra Israele e Palestina. Luigi Di Maio, Ministro dei Affari Esti italiano, mille grazie di aver partecipato al Doha Forum. Per me è stato un piacere, grazie davvero a voi. Per me è stato un piacere, grazie a voi.